Non mi ricordo questa cosa a terra, sinceramente, c'è tutta quella acqua. Signor, perché dovrebbero prendere la maniera? Poi, sai che si è in grado? Su, vede, il muro. C'è una fornata qua, ma tu te la ricordavi che usciva l'acqua qua? Secondo me no, mi sono andato a uscire. L'ho lasciato tutto, non lascio.